Sì ragazzi, non avevo annunciato niente, solamente una foto su Instagram Ma questa volta, e dico anche finalmente, ho fatto il mio primo cosplay in un comics Al Nerd Show di Bologna del 2023, vestito da Michael Myers Ho fatto soltanto qualche piccolo filmato con qualche piccola scenetta, non è che ho esagerato Va bene, ecco voi il piccolo vlog, a dopo! No, no, no Sì ti piglio, lo so che non parli ma ti piglio Ci si vede allora No, no, no No, 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 no Allora sei il pazzo di me Finalmente mi sono fermato Ero stanco, morto dopo aver fatto con molte persone una ventina di foto, giuro Non ci credevo ma ce l'ho fatta E comunque i miei amici mi hanno fatto anche un regalo della Funko Pop Sono contento, dai Comunque sì, questo qua è il mio viaggio che ho intenzione di fare con i cosplay Spero di farne molti altri e fare molte più scene con molti altri cosplayer tutti insieme Dai, sarà una grande avventura! Dai, sarà una grande avventura! Dai, sarà una grande avventura! Dai, sarà una grande avventura!